Ma che fate? È una cosa incredibile! Ma che cosa dovrei pensare? Che siete tutti degli ammucinati! Non mi ci fate pensare! Guardate cosa vi dico! Andiamoci te fuori! Non fate i bambini! Capisco che avete parlato in un momento di smarrimento! Venite fuori! Io posso anche chiudere un occhio! Si è già verificato in casi del genere che un ufficiale possa... Ando stanno? Si sono squagliati tutti quanti! Sì? Tutti, eh? Io sto qua, signor tenente! E perché sei un fesso? C'è che lei? Potevi scappare pure tu con loro, no? Senta, attaccata alla mia licenza! C'era pure la carta non aria per il supplemento dell'atto! Come faccio adesso? Il treno c'è che lei!